Per le molisane di basket la quinta giornata è cerchiata in rosso. Il calendario infatti prevede l'attesissimo e segnetissimo derby serne a Venafro. La partita per eccellenza che va oltre i due semplici punti in più in classifica. Un match che nessuno vuole perdere e entrambe vogliono vincere. San Filippo e Mascio in settimana hanno curato ogni minimo dettaglio per arrivare cariche all'appuntamento di domani. Cominciamo dai padroni di casa. I ragazzi di coach San Filippo hanno il morale a mille dopo il blitz esterno per 59-58 di Rimini con canesso decisivo della guardia Norcino. E arrivano alla partita con la consapevolezza di poter vincere e centrare la seconda V consecutiva. Anche con l'aiuto dei pubblici che come sempre sarà il sesto uomo in campo per il Globo Isernia. Il quintetto Pentro sarà composto inizialmente dal Play Salari, dalla guardia Norcino, migliore in campo una settimana fa, dalle ali Patani e Sipala e dal centro Simone Serio. Di contro coach Mascio per centrare la prima vittoria stagionale e dimenticare la pesante sconvitta interna di sette giorni fa per 85-54 con De Mondo Granaro, si affiderà al suo quintetto base composto dal Play Ex di turno Smorra, dalla guardia Minchella, dalle ali Morette e Tamburrini e dal pivot russo Kushev. Migliorare in difesa e più circolazione palla, questi sono i dictat per la sfida di domani. Per Venafro sarà anche l'occasione di vendicare la sconvitta nella serie play-out della scorsa stagione. Per domenica è stata indetta la giornata a bianco-azzurra e l'ingresso sarà a pagamento, costo 5 euro, mentre sarà graduito per i tifosi Under-16 e Over-65 e per i tesserati del settore giovanile, del Globo Isernia e dell'Accademia. Alla palla fraraccio, palla 2 data dalla signora Andrea Bernastola di Palestrina, secondo arbitro Lanfranco Rubela di Roma. Non ci resta che goderci lo spettacolo e che vinca il migliore.